Sono 86 le attività commerciali e i liberi professionisti del Sud Salento che hanno deciso di donare all'ospedale Cardinale Panico di Tricase un'ambulanza acquistata grazie alle donazioni e il contributo di ogni singolo partecipante all'iniziativa. L'impegno e il gesto concreto di solidarietà e attenzione verso il prossimo si è concretizzato nella mattinata di domenica 22 settembre 2024 in piazza Don Tonino Bello a Tricase, qui alle spalle della chiesa matrice il vescovo della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca Monsignor Vito Angiulia Benedetto e l'unità mobile di rianimazione che sarà impiegata per il trasporto di pazienti non stabili o critici i quali necessitano quindi di particolare assistenza, monitoraggio e cure avanzate. Quest'idea è nata diciamo da uno stimolo anche di Sor Margherita che comunque aveva bisogno di un supporto, è stata molto partecipata all'iniziativa, già nel 2021 ne abbiamo donata una e nel 2024 è nata una nuova esigenza perché purtroppo le ambulanze hanno un diciamo un ciclo di vita molto breve quindi ci siamo riorganizzati e abbiamo quadrato quest'altra ambulanza donata all'ospedale. Abbiamo voluto dare una mano all'ospedale ma perché come diceva Sor Margherita l'ospedale è sentito, ha diciamo un servizio, offre un servizio non solo alla cittadina di Tricase ma anche infatti i partecipanti non sono prettamente di Tricase ma sono imprenditori salentini quindi che operano in un tessuto locale ma più ampio rispetto a Tricase. Alla consegna erano presenti i dirigenti e i medici del nosocomio salentino, le attività che hanno realizzato l'iniziativa i cittadini e la direttrice generale dell'ospedale Cardinale Panico, Sor Margherita Abramato. Una giornata di festa che ringrazio soprattutto perché questo dice che i cittadini ci sono vicini, che i cittadini apprezzano il nostro lavoro e sanno che lavoriamo per la cittadinanza.